Alessia, ecco la tua parte Bolo Si, strappa tutto E' fruttato Basta, non riesco a mangiare con questo qui che mi frigna nell'orecchio Già, non fa venire molto l'appetito Vabbè, buon appetito Alessia, sbaglio o questa allucinazione mi ha appena fatto volare la forchetta? Tranquilla, non è solo un'allucinazione Ma se non fosse un'allucinazione? Infatti sono vivo e vegeto Almeno io mi ragazzo Oddio Alessia, mi spieghi perché stai reagendo così? Un'allucinazione parlante era tanto più normale Ma non era tutto nella mia testa Solo che i tacchini non parlano Beh, io sì Perché ti sembra così strano? Noi tacchini non abbiamo forse un corpo? Dei sentimenti? Dall'anima? Anche noi li abbiamo Ok, ok, ho capito Ho capito, va bene Scusa, non per farmi gli affari tuoi Ma esattamente da dove vieni? E come ci sei arrivato a casa mia? Vengo dall'America Sono fuggita il giorno del ringraziamento Per non essere cucinato E mi ritrovo in una casa di carnivore E pericurta, piena di gatti Sfortunato No, no, questa è proprio sfiga Lo so che finirò ficcata in un forno Ho sguardato da una di quelle bestiazze Mi sa che è meglio che non guardi allora Quello lì Poteva essere il mio cucinatore dell'Italia Mi dispiace Vuoi chiamarlo? Così lo puoi scoprire? E come dovrei usarlo? Ti sembra forse una scimmia con i posti ciopponibili? Noi non ci opponiamo se ti vuoi sentire una scimmia No, Sonia Nel senso che lui non ha le mani prensili Ah, ok Quindi Faglielo tu il numero Sì, te lo faccio io No Preferisco non scoprirlo Tutta la mia famiglia è stata sterminata Tutti uccisi Morti stecchiti Cucinati e mangiati per il giorno del ringraziamento Prima è stato il turno di nonno Frank Poi è stata la volta di zia Pelunia Morta ripiena Non dico da dove Poi mio cugino Daniele Lui sì che era un bel pollo Poi mio fratello Marco Lui sì che era bello rustico di campagna Era il più bello del pollaio Tutte le galline lo desideravano Beh, forse è stato un bene che lui abbia lo preso Sonia non so te Vabbè, non va più di mangiarlo questo Che ci facciamo? Lo buttiamo Beh, neanche a me Ma vista la situazione forse sarebbe meglio un funerale Vabbè, intanto lo tolgo di mezzo No, ti prego Non buttarlo Prima ci uccidete E poi neanche ci mangiate Beh, che vuoi farci? È la catena alimentare Il leone mangia la zebra Noi mangiamo i polli E tu mangi i vermi Sì, ma io lo faccio me sopravvivere Non produco e uccido vermi Per poi fare ne spreco e neanche mangiarli Beh, sì, su questo hai ragione Ci dispiace tanto Ti chiediamo scusa Ti giuro, non l'avevo mai pensata sotto questo punto di vista È che sai com'è? Quando compri la carne al supermercato E la vedi sotto forma di pistecca Non ci pensi che in realtà sono degli animali Con sentimenti Sì, ma raccontaci di più Cos'è questo giorno del ringraziamento? Sembra una cosa orribile E un salsa americana disgustosa Dove tutte le famiglie si riuniscono intorno a un tavolo E ti volano un cacchino intero Sì, è un po' come quando qui a Pasqua in Italia Si mangia l'agnello Cioè, scusa Sì, ma io non dico di non mangiarlo ogni tanto Solo non fate ne spreco Lasciateci vivere la nostra vita In pace e sereni Senza allevarci o metterci in gabbia Per poi mangiarci Beh sì, effettivamente durante le festività Facciamo sempre un'enorme quantità di spreco Cuciniamo sempre tantissimo cibo E poi puntualmente ne buttiamo perlomeno la metà Beh sì, idealmente sarebbe molto bello Potere produrre solo la carne che ci serve Così da non fare spreco A non fare soffrire tutti questi animali A nome di tutti noi umani Ti chiedo scusa Scusa? Grazie Significa molto per me Ma voi siete soltanto due Sopra sette miliardi di persone E voi a casa Mi raccomando Non buttate il cibo Mangiate sempre tutto È il miglior modo per onorare la vita di quegli animali che l'avano donata per voi In modo tale che i loro sacrificio non sono stati fanno Beh sai che c'è? Non è detto che non si possano cambiare le cose Sì infatti Sì infatti inaugureremo il primo giorno del ringraziamento vegetariano della storia Sì sarà fatto di broccoli, spinaci, fagioli Non sembra tanto buono Ma si possono fare un sacco di ricette sfizziose Ma la soia è un'ottimo sostituto tanto per variare un po' Ma se lo dici tu Bene mettiamoci al lavoro allora Sì vai Che buone le carotine Fanno benissimo Aiutano la nostra vista Ed estate ci favoriscono la bronzatura Buone le lenticchie Sapete sono un ottimo portafortuna che si mangia a capodanno E soprattutto fanno super bene per essere forti e in salute Sonia abbiamo anche dei fagioli da finire Questi che provi danno? Beh ti dico solo che è meglio che li mangi quando sei da sola Perché fanno venire un po' di aria nello stomaco se mi intendi Sapete invece che potete fare con questi ceci qui? Potete metterli in un bel frullatore Frullarli per bene Aggiungere olio, sale, pepe e limone E vi verrà fuori una delizia marocchina Ovvero l'humus L'avete mai mangiato? E per finire un bel contorno di insalata Ragazzi non so voi ma io in un'altra vita sarò stata sicuramente un ruminante Perché non ho troppo l'insalata Ma secondo te questo lo possiamo mangiare? Non è che era tipo suo cugino? Ma certo che potete Quello mica è stato fecondato Menomale mi piacciono troppo le uova per rinunciarci Anche io le mangerei anche sbattute al muro Bene Adesso come funziona esattamente questo giorno del ringraziamento? Senza un tacchino che si fa? Ma il tacchino c'è Sono io e sono l'ospite d'amore È vero ma che attività si fanno? Cioè si mangia pasta Ma no Adesso ognuno deve dire per cosa è grato quest'anno Presto Cominciate voi Inizio io Ok vai Io sono grata di aver scoperto finalmente quanto in realtà soffrano gli animali che amo tanto Così da non farli soffrire mai più Io invece sono grata di avere una bella famiglia di avventurieri Che come me oggi avranno capito quanto sia importante non sprecare il cibo e mangiare tutto ciò che si ha nel piatto Vero? E tu invece? Già Tu per cosa sei grato? Io sono grato di essere ancora vivo il giorno del ringraziamento E di essere qui con voi seduta a tavola a festeggiarlo per la prima volta Oh che carino Ma non stacca sei un'ala Scusa Ti possiamo adottare Ma sei pazza con tutti i gattacci? Basta Io me ne manco più Clicca il video sotto Sonia per vedere l'episodio precedente E non dimenticare di cliccare sulle nostre facce per iscriverti ai nostri canali